Musica Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. Apriamo con la cronaca questo telegiornale perché poteva avere un epilogo molto più serio con danni più gravi al volto l'operaio 45enne della Salerno Pulita rimasto ustionato durante il ritiro dei rifiuti a Mariconda dopo l'esplosione di una bomboletta che conteneva vernice. Il sindacato Fiadel chiede una presa di posizione al comune di Salerno proprietario della società partecipata. L'assessore all'ambiente Caramano intanto questa mattina ha espresso piena solidarietà al lavoratore che è rimasto ferito. Vicinanza ai lavoratori che fanno il proprio dovere per garantire una città pulita. L'incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio di Salerno Pulita il 45enne Francesco Pezzano che lunedì ha riportato un ustione di primo grado per l'esplosione di una bomboletta che conteneva vernice rossa. È un fatto grave, un episodio che andrebbe punito. Così questa mattina l'assessore all'ambiente del comune di Salerno Angelo Caramano commentando l'incidente che avrebbe potuto avere un epilogo diverso con lesioni più gravi. Un fatto che ha messo a rischio un lavoratore che ancora una volta testimonia una scarsa attenzione dei cittadini nel conferire i rifiuti. A denunciare duramente l'episodio che ha coinvolto il lavoratore di Salerno Pulita, nonché delegato sindacale della FIA del Provinciale e dipendente della società partecipata del comune di Salerno dal 2008, è Angelo Rispoli, segretario del sindacato. Per fortuna non ha riportato danni agli occhi, ha riportato Rispoli, ma la bomboletta spray ritrovata in un cassonetto carrellato insieme ad una bottiglia di plastica di due litri contenente della vernice rossa in un condominio del quartiere Mariconda e finita nel compattatore che ha provocato l'esplosione improvvisa, poteva provocare danni più seri. Sul casa è stata già aperta un'inchiesta da parte della Polizia Municipale per risalire a chi abbia sversato illegalmente del materiale che andava invece depositato nei locali dell'isola ecologica, ma intanto la FIA del Provinciale chiede una presa di posizione al comune di Salerno, proprietario della società. La brutta storia, prima cosa, esprimo ancora una volta, a nome mio personale e dell'amministrazione, non la solidarietà, la vicinanza a questi ragazzi e a questi lavoratori che fanno il proprio dovere in maniera seria, partecipata e che sono fieri di avere un posto di lavoro nell'organizzazione complessiva della città di Salerno. Perché in questa società ci sono tanti ragazzi che lavorano seriamente e buttano anche il cuore oltre l'ostacolo per tenere purita la città e per fare al meglio il proprio lavoro. L'episodio della bomboletta, lo dicevo prima ai vostri colleghi, non è catalogabile come episodio di gestione ordinaria, ci sarebbe bisogno di sanzioni più severe per chi fa queste cose, perché chi butta una bomboletta sapendo che può avere queste conseguenze andrebbe punito in maniera da anno 1000 piuttosto che da anno 2019 con la sanzione da 518 euro, perché è veramente uno che mette a rischio l'incolumità fisica delle persone. Dobbiamo partire con una maggiore sensibilizzazione, con una maggiore durezza ulteriore, anche se, ripeto, l'episodio in sé è difficilmente intercettabile, puoi beccare il condominio, ma il condomino diventa sempre più complicato e si può tentare un accertamento perché si sa dove è stato preso il suo tacchetto, però qua è un problema di cervello, insomma, neanche di testa. Un cortocircuito partito dal frigorifero in cucina è questa la causa che questa mattina ha provocato un incendio in un appartamento al terzo piano di via Posidonia a Torrione. Nello stesso palazzo, dove qualche mese fa, ricorderete, ci fu il crollo del parapetto di un balconcino. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha limitato i danni. Grazie alle sollicitazioni giunte al 115 da alcune persone che avevano notato fumo fuori uscire dall'abitazione, i caschi rossi hanno raggiunto in pochi minuti il luogo dell'incendio. Le fiamme hanno danneggiato la cucina, ma per fortuna non hanno avvolto anche le altre stanze che invece sono state completamente coperte dal fumo. Tanto spamento per la proprietaria che al momento dell'incidente non era in casa. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per la curiosità di passanti ed automobilisti che hanno seguito da spettatori l'intervento dei caschi rossi. Non bastava la chiusura dell'ingresso dell'autostrada a Treverso Napoli a creare ingorghi, soprattutto nelle prime ore del mattino, e disagi agli automobilisti del Salernitano. Perché questa mattina si sono verificati due gravi incidenti che hanno mandato in tilt la viabilità sia nella Valle dell'Irno che nei Picentini. Il primo incidente si è verificato tra Baronissi e Salerno Fratte, dove è rimasto coinvolto un auto articolato con traffico in grave rallentamento. Un altro invece in carreggiata nord, prima dello svincolo di Montecorvino, lungo la corsia della 2 del Mediterraneo, tra Campagna ed Eboli. Per cause ancora da chiarire, un 14enne proveniente da Policoro è fuggito a bordo della vettura del padre, attraversando la Basilicata prima per raggiungere poi l'autostrada del Mediterraneo, dove però si è scontrato una Fiat Panda. Nell'impatto il giovane ha riportato la peggio con lo spappolamento della milza. Immediato per lui il ricovero d'urgenza all'ospedale di Battipaglia, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della polizia stradale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. A quasi immaniente luce, la situazione invece che si è verificata questa mattina a Palazzo di Città Salerno, dove per le abbondanti piogge della scorsa notte si è allagato il sotterraneo di Palazzo Guerra, provocando un conseguente blackout elettrico. L'ufficio comunicazione ha subito reso noto che l'interruzione di energia ne aveva provocato il blocco dei servizi informatici, delle linee telefoniche, fermi anche gli ascensori. A causa del blackout, dell'allagamento dei locali sotterranei al Palazzo, a causa del forte temporale di stanotte, si è verificato il riempimento, oltre misura, di alcune vasche di contenimento nella parte sottostante il Teatro Agusteo. Subito al lavoro gli operai dell'ufficio manutenzione, che vedete in queste immagini, realizzate proprio questa mattina durante l'intervento. Le attività a Palazzo di Città sono riprese regolarmente intorno a mezzogiorno. Ed ora ci occupiamo di trasporti perché sembrerebbe scongiurata la soppressione dell'attuale corsa del treno della Frecciarossa Salerno-Roma delle 5.20 del mattino. In viaggio noi questa mattina con i pendolari, che utilizzano il treno ad alta velocità verso la capitale, proprio il giorno dopo la notizia che la soppressione non ci sarà. C'è comunque attesa per la conferma degli orari ufficiali. Sentiamo Monica Di Mauro, le impressioni che ha raccolto direttamente dai pendolari, questa mattina in viaggio per noi sul Frecciarossa. Assolutamente, sì. Deve mantenere questo treno. Trenitalia, se ci lasci non vale. È unanime l'appello che parte dai pendolari che si muovono ogni giorno sul collegamento ad alta velocità Frecciarossa che parte alle 5.20 da Salerno per raggiungere Roma. La sveglia suona presto per loro, tutte le mattine. La giornata per i lavoratori pendolari che partono da Salerno inizia prima che il sole si sveglie ed illumini il cielo. A volte, se la ricerca del parcheggio richiede tempo, non c'è spazio neanche per il caffè. Qualcuno appena arriva sul treno cerca di prendere sono, qualcun altro cerca di anticiparsi un po' di lavoro. C'è stata grande preoccupazione in questi giorni rispetto alla notizia della soppressione. Tante storie di tanti di voi che usano questo treno per lavoro. Si è parlato dell'andata ma anche del ritorno. Vi preoccupava questa scelta di Trenitalia? Sì, il ritorno ci ha preoccupato tanto. Non abbiamo ancora conferma che non toglieranno il treno. L'andata per noi è essenziale perché comunque ci permette di arrivare a Roma a un orario decente. Che lavoro fai? Io sono una collaboratrice e devo arrivare a scuola alle 7 e mezza di mattina. Cioè, è un viaggio non indifferente. Mettendo il treno alle 5.38 sarebbe stato impossibile arrivare al lavoro. Proprio impossibile perché alle 7.40 è inaccettabile arrivare a Roma a termine. E nello stesso tempo il treno del rientro vi consente poi di avere una vita? Nel senso che poi tornate in tempo utile per incontrare la propria famiglia? Sì, assolutamente sì. Anche perché c'è un vuoto di... Se metterebbero... Il treno lo sposterebbero alle 18.00 ci sarebbe un vuoto di ben 4 ore. Perché l'ultimo treno diretto a Salerno è alle 14.03. Quello delle 17.28, diciamo, ci salva un po', smorza un po' questa distanza tra i due orari, insomma. Perché arrivare alle 20.06, se non erro, sarebbe proprio un massacro. Poi il giorno dopo si ripeterebbe, diciamo, lo stesso viaggio di sempre. Facciamo un appello a Trenitalia, allora. Un appello è che vi chiederei di ascoltare le nostre richieste, perché noi siamo pendolari, paghiamo un abbonamento ogni mese. Abbiamo bisogno di questo treno perché ci lavoriamo, ci mangiamo. E quindi vi chiedo di essere sensibili nei nostri confronti e darci questo servizio e non tornerlo a noi. Non riesco a fare Salerno-Milano e rientro in un giorno. Perché se no sarebbe un aggravio di mezz'ora in più al ritorno per noi, diciamo, per rientrare a casa. Quindi perderemo un'altra mezz'ora della nostra vita ogni giorno, insomma. La partenza del treno c'è un po' più di ottimismo perché si è diffusa la notizia che Trenitalia abbia rivisto la sua decisione e probabilmente cambierà soltanto, ma di poco, l'orario di partenza. Oggi con un pizzico di entusiasmo in più perché sembra che sia stata scongiurata questa soppressione. Sì, sicuramente con un sollievo notevole per noi che appunto affrontiamo questo ogni mattina, anche se ovviamente dal sito ancora non risulta il ripristino come è stato annunciato. Ovviamente siamo vigili nel monitorare la situazione, però sicuramente con un sollievo in più si parte in questi giorni. Allora, si dicono tante cose, si leggono tante cose, però io fino a stamattina ancora non ho visto l'orario 5.20. Dario Bassallo, fratello di Angelo, sindaco di Pollica, assassinato il 5 settembre del 2010. Ieri è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia sul tema delle infiltrazioni mafiose. Per l'occasione il fratello del sindaco pescatore ha anche consegnato in Commissione un dossier che conta 430 pagine. Bassallo è sicuro che la droga sia stato il principale movente dell'assassinio del fratello. Sentiamo. In questi anni sono stato sbeffeggiato, offeso, querelato, ma non mi fermo. Ho bisogno di dare alla mia vita un senso dopo la morte di mio fratello. Per questo denuncerò lo Stato italiano alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per come sono stato trattato. Si è conclusa così l'audizione di ieri sera, presso la Commissione parlamentare antimafia, di Dario Bassallo, fratello del compianto sindaco Angelo, ucciso a Pollica il 5 settembre del 2010. Durante l'intervento, trasmesso in diretta streaming sul canale web della Camera dei Deputati, Bassallo si è avvalso della facoltà di secretare alcuni passaggi della seduta, consegnando un dossier di 430 pagine e precisando di parlare nelle vesti di Presidente della Fondazione Bassallo, ovvero a nome di tantissimi italiani che hanno sete di verità. L'audizione, durata circa un'ora e un quarto, ha visto in coda gli interventi di diversi senatori e deputati. 73 minuti durante i quali Bassallo ha puntato il dito contro magistrati, ufficiali dell'arma dei carabinieri e politici cidentani, addensando forti dubbi sulle indagini e le modalità con le quali furono eseguiti i rilievi sulla scena del crimine. Quando sono arrivato attorno alla macchina di mio fratello ho contato 17 persone, 17. Quindi chiunque poteva accedere a quel posto e non a caso ce n'erano 17 persone. In quel francende io ho visto già che le cose erano un po' strane. E di fatti queste stranezze io non le vi posso raccontare chiaramente in ordine cronologico. Io vi dà conto quello che sono i personaggi che sono entrati in questa storia. Bassallo, chiedendo più voti di dare un volto al chille del fratello, si sfoga in particolare contro Alfredo Greco, ex procuratore capo della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, accusandolo di non aver transennato adeguatamente il luogo del delitto e preannunciando per dare la giure nei suoi confronti azioni legali. Alfredo Greco, ex sostituto procuratore di Vallo della Lucania, lui dichiara pubblicamente Quando sono arrivato sul posto del luogo del delitto ho transennato tutto e ho cacciato via i presenti, compreso Cagnazzo. Le immagini televisive della trasmissione Le Iene dimostrano il contrario. Dimostrano che Alfredo Greco, ex procuratore della Repubblica italiana, fa anche un buffetto a Cagnazzo. Dopo una serie di dubbi sollevati anche sul presunto trattamento sgradevole ricevuto dal Consiglio Superiore della Magistratura, Dario Bassallo tira in ballo anche Franco Alfieri, attuale sindaco di Capaccio Pestum e già assessore ai lavori pubblici della provincia di Salerno, chiedendo di riaccendere i riflettori sull'inchiesta Strade Fantasma caduta in prescrizione. Nel nominare Alfieri però, dopo la breve introduzione, Bassallo ha chiesto di secretare le sue dichiarazioni oscurando la diretta online, per poi tornare in video denunciando le minacce di morte ricevute sui social da diverse persone da lui già querelate. Quando si è candidato alle politiche del 2018, lui si vanta di 500 amministratori che hanno sottoscritto la sua candidatura per presentarla all'allora segretario Matteo Renzi. A me ne risultano 470. Ci vogliamo chiedere come mai 470 amministratori sottoscrivono la candidatura di uno che si chiama Franco Alfieri, che fino adesso ne ha fatte di cose in questo mondo e in questo territorio che è il Cilento e che è la Campania. Ma quando alcuni senatori a fine seduta gli chiedono quale sia il suo personale pensiero sul movente dell'omicidio del fratello, Bassallo non esita. Io penso la droga. Si terrà nell'aula magna Vincenzo Buonocore dell'Università degli Studi di Salerno la cerimonia di consegna dei premi internazionali della Scuola Medica Salernitana. La cerimonia inserita nell'ambito del tradizionale appuntamento delle giornate della Scuola Medica Salernitana promossa dall'Ordine dei Medici di Salerno, proseguirà con il giuramento dei neolaureati in medicina ed odontoiatria. Questa mattina nella Sala del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Via Santi Marti dei Salernitani la conferenza stampa di questa ventesima edizione delle giornate della Scuola Medica. Il Presidente dell'Ordine Giovanni D'Angelo ha motivato i premi e diffuso allo stesso tempo anche l'elenco dei neolaureati che pronunceranno il giuramento di Ippocrate. Sentiamo. Venerdì prossimo nel pomeriggio inizieranno le giornate della Scuola Medica Salernitana. Come ogni anno, oramai si tengono la terza settimana di ottobre e iniziano sempre con il pomeriggio del venerdì in cui c'è una giornata molto particolare ma molto importante che si svolge nell'Aula del Rettorato di Fisciano in cui ci sarà praticamente il momento più toccante rappresentato dal giuramento dei neolaureati iscritti sia medici che odontoiatri. La cerimonia inizierà con un momento altrettanto importante che è quello della premiazione di personalità del mondo medico e del mondo odontoiatrico. È una giornata che si caratterizza con la successione di ben sette premi. Ci saranno cinque premiati per quanto riguarda l'area medica e due premiati per quanto riguarda l'area odontoiatrica. A questi premiati succederà poi il momento forse più importante che c'è nel decorso di questo pomeriggio che è quello appunto della premiazione dei nostri neo iscritti in cui ci saranno, a parte la presenza chiaramente degli interessanti, vedrete un mondo molto variegato e variopinto che è andato dai familiari presenti nella nostra cerimonia che è un momento veramente molto molto bello che fa capire perfettamente la partecipazione di una intera famiglia a quello che è il percorso professionale dei nostri iscritti. È un momento in cui la famiglia si sente realizzata forse ancora più di quando non si sentono realizzati coloro i quali hanno raggiunto il titolo appunto di medici o di odontoiati. A proposito di questo convegno che noi organizziamo c'è da dire che nella giornata di venerdì, come già ha detto il Presidente, saranno premiate delle figure emerite che vanno dal giornalismo alla medicina alla odontoiatria, persone che si sono distinte per il campo sia medico che giornalistico. Infatti un premio al medico dell'anno andrà al dottor Salvatore Pauciullo il quale è stato sul campo anche di campi di battaglia ha prestato la propria opera a favore di feriti e quindi è un premio che viene riconosciuto per il suo impegno in zone pericolose. Poi un premio alla carriera va ad Andrea Lenzi che è un docente universitario di endocrinologia il premio alla ricerca scientifica al dottor professor Alessandro Weitz il premio alla storia della medicina al dottor Giuseppe Lauriello che è un medico che da anni si interessa nella scuola medica salernitana poi c'è un premio alla carriera in odontoiatria che è il dottor Roberto Di Lenard premio alla ricerca scientifica in odontoiatria che è il dottor Filippo Graziani e per finire un premio al giornalismo che viene dato al dottor Gerardo D'Amico che cura delle serie scientifiche sul Rai News. E continuiamo a parlare di sanità perché quasi mille bambini del salernitano senza riabilitazione o a rischio stop da un giorno all'altro per l'esaurimento dei tetti di spesa assegnati alle diverse strutture convenzionate. a denunciarlo con una lettera inviata ai vertici dell'ASL e anche l'associazione dei centri di riabilitazione che lamenta l'indifferenza delle istituzioni in modo particolare di via Nizza. Quasi mille bambini del salernitano senza riabilitazione o a rischio stop da un giorno all'altro per l'esaurimento dei tetti di spesa assegnati alle diverse strutture convenzionate. A denunciarlo con una lettera inviata ai vertici dell'ASL è l'associazione dei centri di riabilitazione che lamenta l'indifferenza delle istituzioni. Da via Nizza nel frattempo fanno sapere che sono impegnati alla risoluzione di questa sofferenza per tante famiglie. Il 30 settembre abbiamo segnalato che oltre 600 bambini pur essendogli state prescritte terapie indifferibili dai medici dell'ASL non potevano effettuare queste terapie o addirittura essendo in cura avevano subito l'interruzione repentina del ciclo terapeutico e scritto nella lettera abbiamo segnalato che la commissione che per decreto e per contratto ha il compito di vigilare su tali situazioni nonostante l'obbligo di riunirsi ogni due mesi non viene convocata da otto mesi. Dopo due settimane la risposta che abbiamo avuto è il silenzio assordante da parte non solo dell'amministrazione ma anche delle associazioni che pure fanno parte del tavolo. Questa situazione, stando a quanto denunciato dall'ANPRIC ha prodotto più di 100 diffide da parte di un centro della provincia al responsabile della riabilitazione del distretto di appartenenza per altrettanti bambini ai quali erano state negate o interrotte le terapie così come un altro ha dichiarato lo stato di agitazione sindacale dovendo licenziare i terapisti addetti alle cure bloccate improvvisamente. Ad oggi, stima l'associazione, i bambini a cui non viene effettuata la terapia avrebbero superato il migliaio che potrebbero diventare il doppio il prossimo mese le famiglie che vanno ai distritti per sollecitare la presa d'atto da parte dei responsabili della riabilitazione per la continuazione del ciclo terapeutico vengono rimandate a casa senza alcuna alternativa, continua la lettera di fronte a questo dramma umano e sanitario non arrivano risposte che non siano il silenzio e l'indifferenza coloro che dovrebbero fornire quelle risposte sembrano concentrati esclusivamente in un ruolo di guardiani dei tetti di spesa budget questo ritenuto da più parti inadeguato a rispondere al fabbisogno di riabilitazione visto che le prestazioni per capite in provincia di Salerno sarebbero 10 regionali stata bloccata alla terapia dagli uffici dell'Asla nel frattempo fanno sapere che i centri sanno bene di non poter erogare prestazioni oltre ai tetti assegnati tuttavia l'azienda sanitaria è consapevole del disagio sofferto dalle famiglie ed è impegnata nella ricerca delle soluzioni adeguate per superare il problema Ed ora ci spostiamo a Cava dei Tirreni perché parliamo della riapertura del parcheggio di San Francesco acquisito al patrimonio immobiliare comunale poiché abusivo ce ne parla il nostro corrispondente Il parcheggio Tolomei realizzato abusivamente senza alcun tipo di autorizzazione così come altre opere all'interno del convento francescano le aprirà i battenti nei prossimi mesi dando sollievo così agli operatori sanitari e a coloro che si recano in visita agli ammalati ricoverati all'ospedale Santa Maria dell'Ulmo Infatti nei giorni scorsi si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi indetta per l'accettamento del mancato contrasto delle opere abusivamente realizzate con preeminenti interessi paesaggistici, urbanistici ed idrogeologici al fine della loro conservazione sull'area inizialmente di proprietà della provincia religiosa salernitano-lucana dell'immacolata concezione dei frati minori circa un decennio fa è stato realizzato abusivamente un ampio piazzale in pietrisco adibito ad uso parcheggio con accesso mediante cancello in ferro da via Tolomei a cui nel corso degli anni sono stati aggiunti sempre senza alcun tipo di autorizzazione viali pedonali e carrabili che dallo stesso parcheggio raggiungono il cortile del convento di San Francesco con relativi muri di contenimento accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione l'immobile abusivo e la sua area di sedime sono stati acquisiti di diritto al patrimonio comunale l'amministrazione tenendo conto dell'assenza di parcheggi pubblici ad uso esclusivo dell'ospedale cittadino ha deciso di portare avanti la tesi della dichiarazione di prevalente interesse pubblico al mantenimento dell'opera abusiva così come fatto in passato per gli immobili abusivi considerati di necessità alla luce di ciò è stato avviato l'iter per il rilascio dei pareri da parte degli organi competenti soddisfazione per l'esito positivo della vicenda è stata espressa dal sindaco Vincenzo Servalli che ha illustrato anche i prossimi passaggi burocratici e le opere di mitigazione che dovranno essere effettuate prima della riapertura e parliamo ancora di ambienti e di rifiuti perché Cicerale, Agropoli, Capaccio Pestum e Ogliastro Cilento dicono no alla richiesta di un impianto da parte della MGM di Battipaglia sentiamo ma abbiamo appreso della notizia il 24 settembre quando è arrivata una convocazione di una conferenza di servizi da parte dell'ufficio competente della regione Campania per decidere la scelta, la richiesta di delocalizzare da parte della MGM nella nostra zona industriale in verità abbiamo appreso questa notizia con grande stupore perché in fondo eravamo rimasti alla legge storica la 14 del 2016 che in qualche modo inseriva Cicerale nell'ambito delle aree off limits per l'insediamento di aziende che trattano rifiuti solidi urbani poi c'è stata successivamente una modifica che ha consentito che ha aperto le maglie una modifica da parte della regione che ha aperto le maglie per l'insediamento anche nelle aree industriali dei paesi che rientrano nelle aree protette delle aziende che trattano i rifiuti noi valuteremo dal punto di vista tecnico il progetto lo stanno facendo gli uffici io mi sto soltanto informando su quello che gli uffici stanno facendo devo dire vogliamo che siano chiari tutti i processi produttivi di questa azienda che vanno a inserirsi in un contesto particolare perché l'area industriale di Cicerale è un'area industriale che fiora all'occhiello della regione Campania nel settore produttivo abbiamo 35 aziende che lavorano che producono e che danno occupazione un indotto di circa 2000 unità lavorative aziende di tecnologia addirittura dell'aerospaziale stanno producendo, stanno realizzando la navicella spaziale Orion 2 che andrà su Marte una di queste ci sono aziende nel settore dell'automobilistico aziende nell'agroalimentare noi puntiamo molto su questo settore perché oggi l'agroalimentare è il settore primario il settore trainante dell'economia italiana c'è una bistilleria, c'è un'azienda vinicola c'è un allevamento bufalino di 2000 capi a pochissimi metri dal possibile sito di insediamento di questa azienda che tratta rifiuti solidi urbani quindi vogliamo vedere chiaro su tutti i processi produttivi a cominciare da quelli che riguardano l'ambiente dove verrà smaltita l'acqua che servirà per l'ingente quantità di acqua che servirà per che questa azienda funzioni in maniera cognitiva in maniera perfetta perché un'azienda di rifiuti deve necessariamente funzionare in maniera perfetta e poi lo stoccaggio dei prodotti finiti di lavorazione il turnover che ci sarà tra la materia in entrata e la materia in uscita insomma tutta una serie di informazioni tecniche che gli uffici mi risulta hanno chiesto e che con un'opportuna integrazione potranno consentire una valutazione con cognizione di causa ed ora voltiamo pagina perché è il momento di scoprire insieme quali sono gli appuntamenti per il tempo libero a tra poco Al Cinemateatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi in programma il film in uscita nazionale Maleficent signora del male tra gli spettacoli alle ore 17 alle 19.30 e alle 22 ingresso intero 7 euro ridotto 5 euro il giovedì non festivo ingresso unico 5 euro per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosanemetrio.it si alza il sipario alla Teatro San Paolo di Ponte Cagnano Faiano per la seconda rassegna di teatro comico una risata lunga la vita organizzata in collaborazione con la compagnia teatrale Nuova Edutipe sabato 19 ottobre alle 20.45 domenica 20 ottobre alle 19.30 in scena la compagnia Teatro Mania di Tricarico di Napoli in separati ma non troppo testo scritto da Paolo Cagliazzo e Francesco Procopio per informazioni 334 25 98 567 Life Art Gallery Spirale Milano Art Ecom Museum presentano il progetto Artisti MAG Mediolanum Art Gallery sabato 26 ottobre alle ore 17 l'inaugurazione della mostra collettiva gratuita il comitato scientifico del MAG presenterà il più importante progetto di visibilità e valorizzazione a livello internazionale riservato ad artisti emergenti Life Performance testimonial Paolo De Quarto artista calabro milanese che reinterpreta con estremo originalità la reclame dipinta sui muri degli anni 60 Life Art Gallery via Brodolini a Battipaglia Andiamo, ti divertirai, te lo prometto E parleremo di sport subito dopo la pubblicità perché c'è grande attesa per questa gara in trasferta della Salernitana in terra lagunare ma ne parliamo tra pochissimo non prima di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore a tra poco In collaborazione con Accendi la cultura Con Tecno Scuola l'università è a casa tua con l'innovazione dell'università telematica Iscriviti ai corsi universitari con soli 1000 euro annui e con Tecno Scuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno e poi corsi di formazione REC, OS, Super OS, OSA e inoltre scuola per estetista, biegno e specializzazione Tecno Scuola e a Battipaglia e a Salerno Tecno Scuola.it Previsioni per domani Al mattino sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni in montagna bel tempo con cieli sereni Nel pomeriggio sulle coste schierite alternate a nubi sparse in montagna parzialmente nuvoloso con schierite prevalenti Previsioni del tempo fornite da 3B Meteo Ed archiviata la seconda sosta del campionato cadetto la Serie B osserverà un altro miniciclo per la Salernitana un nuovo Tour de Force con altre 5 partite in 22 giorni il tecnico Ventura spera di recuperare qualche altro infortunato da un'infermeria sempre troppo piena Ancora un ciclo di 5 partite dopo la seconda sosta del campionato cadetto la Salernitana torna in campo sabato pomeriggio al Penso di Venezia per la compagnia di Ventura la prima di 5 partite a distanza ravvicinata in 22 giorni infatti la squadra Granata avrà 5 impegni di fila nel torneo cadetto dopo il match in Laguna arriva il Perugia allo Stadio Arechi quindi il turno infrasettimanale con il Pisa all'Arena Garibaldi e la visita dell'Entella nel Principe degli Stadi chiude il ciclo di 5 partite la trasferta di Cremona prima di un'altra pausa delle nazionali come sempre la Serie B non dà tregua e propone subito un altro minimese ricco di partite senza un attimo di pausa a giudicare dai precedenti comunque la pressione porta abbastanza bene ai Granata l'ultimo ciclo di ferro infatti è stato tutto sommato archiviato in maniera più che positiva per la Salernitana 8 punti in 5 partite con l'unico neo della casella vuota alla voce vittorie casalinghe e questo naturalmente è un trend da provare a invertire il prima possibile tornare ad essere competitivi alla Rechi si impone per una squadra che vuole avere delle ambizioni legittime di vertice nell'ultimo Tour de Force la truppa di Ventura ha dimostrato di potersela giocare alla pari con le più forti del torneo cadetto ma ha anche capito che serve l'aiuto di tutti per portare a casa le partite alcuni punti sono stati persi per una rosa costretta all'osso o quasi perché piena zeppa di infortuni e quindi ecco le nuove possibilità perché questa pausa ha aiutato e adesso il tecnico Ligure può contare su forze fresche in più almeno così si spera Cristiano Lombardi e Lamigliallo infatti sono sulla via del completo recupero e sabato prossimo possono essere della partita o almeno essere delle valide alternative ancora qualche giorno di attesa invece per recuperare Ackpac Pro che però punta con decisione il Perugia per il suo ritorno in campo Thomas Herteau potrebbe esordire in questi prossimi cinque impegni e anche Bigliong è finalmente tornato dalla Francia pronto a completare le operazioni di recupero per Mantovani invece bisognerà attendere ancora un altro mese e con il calcio si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale grazie come sempre per averci scelto e buon proseguimento arrivederci vuoi rivedere questo programma visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand e clicca su